Al microfono di Assono Sport, Andrea Soncin. Ogni domenica è una finale adesso per voi, perché non potete più permettervi di perdere punti. Partita più difficile non poteva essere che un derby contro un affomarco comunque agguerrito, che la giocata vi ha aperto domo qualità ma anche tanto carattere, mi è sembrato. Sì, noi diciamo che in questi due mesi quello che è cambiato in questa squadra è che ci siamo resi conto che per vincere le partite contro queste squadre qua bisogna mettere in campo anche quantità, non solo qualità, perché la qualità non basta. Il carattere in questi due mesi si è visto che è venuto fuori, adesso andiamo sotto, riprendiamo sempre le partite, le ribaltiamo, ci pareggiano ancora, le ribaltiamo ancora. Sotto questo punto di vista siamo diventati veramente una squadra. Certo che adesso vi attende un filotto veramente particolare, perché mercoledì vabbè c'è il jolly galliate, come lo chiamano un po' tutti gli annetti ai lavori, però proprio già domenica col Cameri sono tutte partite sulla falsa riga di quella del derby di oggi. Squadre che devono lottare per salvarsi e che cercheranno anche solo di accontentarsi di un punto, mentre per voi un punto vorrebbe dire buttarne via due e rovinare praticamente una stagione. Sì, quando perdi così tanti punti nel giro d'andata poi non puoi più sbagliare, adesso abbiamo queste tre partite e dobbiamo assolutamente fare nove punti, se riuscissimo a fare questi nove punti qua ci rimettiamo là, arriviamo là attaccati al treno playoff e poi quegli scontri diretti che abbiamo con Oleggio Romentinese, là rimettiamo tutto in gioco. Secondo te qual è l'avversario, l'obiettivo primario da mettere nel mirino di quelle che avete davanti in questo momento, salvo sta che comunque tutte, quando le abbiamo incontrate, hanno sempre detto che se arrivasse nei playoff con la Juve Domo, la Juve Domo delle quattro che fanno i playoff sarebbe la favorita, questo me l'ha detto Forzatti, l'ha detto Boldini, hanno detto un po' tutti gli allenatori di altre squadre. Sì, poi vabbè quando se riuscissimo ad arrivare, quando arrivi in corsa e sei sempre lanciato con una carica in più rispetto magari a quelle che per dire uno stresa che se dovesse perdere punti e arrivare nei playoff sarebbero magari col morale a terra, cioè tu arrivi recuperando così tanti punti da quelle davanti, uno stimolo in più, sei più carico e rischi veramente di andarli poi a vincere. Ritornando alla gara di oggi, scherzavo prima con qualche tuo compagno e qualche tuo dirigente, oggi a te Andreolli, colpittori di testa di un certo livello, ogni tanto è venuto dal fastidio un ragazzino del 96, il numero 7 Tomola, mi è sembrato veramente sfrontato nei vostri riguardi. No, ha fatto veramente un'ottima impressione, pensavo fosse un 95, adesso è venuto un 96, ma è un ragazzo di grande avvenire perché veramente a qualità, a quantità di testa, le prendeva quasi tutte lui in mezzo al campo, è veramente un bel giovane, infatti gliel'abbiamo detto, cercate di portarlo a casa perché un 96 così non è facile trovarlo. Tra l'altro qualche colpo l'ha anche preso, non ha battuto ciglio, si è grattato un po' la testa e è ripartito. Sì, sì, quello, vabbè, ci sta. Si fa le ossa. Si fa le ossa. Grazie Andrea e alla prossima. Ciao, ciao a tutti, grazie.